Musica Francesco Tomasello, RSX Youth, sei il primo, tu sia molto contento per una giornata estremamente positiva, ce la racconti? Sì, sono molto contento, abbiamo fatto tre prove, ho fatto due primi e un secondo, la prima prova ho girato la prima bolina secondo, poi ho recuperato il primo Matteo Evangelisti di Poppa e poi ho mantenuto il vantaggio che avevo. Invece la seconda regata sono partito abbastanza bene, ho sbagliato il lato del campo, ho scelto il sinistro, invece Matteo è andato sul destro e lui è passato primo con un po' di vantaggio, ecco non sono riuscito più a prenderlo. Invece la terza ci siamo invertiti, lui è andato nel lato sinistro, io invece nel lato destro e sono passato io e quella l'ho fatta tutta prima. Sì, contento? Sì, molto. Senti, siete un gruppo di giovani nella tavola con Matteo, c'è Carlo, c'è Abatti, siete un gruppo di giovani forti, competitivi, ve la giocate, ti aiuta immagino anche a crescere questo, vero? Eh, la voglia sì, poi ci alleniamo spesso assieme con i raduni, quindi diciamo che cresciamo assieme. È sbagliato definirvi una sorta di tribù? No, giusto. Bene. Un gruppo. E com'è questa tribù? Eh, bella, agguerrita, perché alla fine a terra siamo tutti amici sempre e poi in acqua durante la regata diciamo che diamo tutto a tutti, però poi già subito alla fine ci facciamo i complimenti a vicenda. La sensazione di regatare qui a Napoli con questa città dietro, insomma immagino che sia qualcosa di emozionante. E' molto bello, pure la presenza di barche diciamo molto grosse, di yacht, eh sì, molto bello. Bene, a domani allora. Va bene.